amici di gossip news ben ritrovati io sono nat e questa una nuovissima pillola di gossip la serata inaugurale di sanremo 2022 ha raccolto un ampio consenso da parte del pubblico per amadeus è stata la migliore partenza da tre anni a questa parte un boom di ascolti che inevitabilmente ha fatto fare paragoni con i festival degli anni passati tra cui anche quello di paolo bonolis del 2005 paragone che ovviamente non è piaciuto molto a sonia bruganelli vi ricordo moglie di bonolis la quale ha fatto quello che di solito fa sempre ovvero detto la sua su instagram ma ecco quello che è successo in queste ultime ore prima di proseguire vi invito come al solito a supportare canale mettendo me like registrateli e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti e rimanete lì fino alla fine perché dopo alla fine vi devo dare un'idea che mi è venuta in mente al momento ok nella settimana sarre mese di cosa si vuole parlare se non di sanremo targato a amadeus anche questa terza adventure iniziata col botto visto che la serata inaugurale ha raccolto davanti alla tv quasi 11 milioni di telespettatori con uno share del 54,7 per cento tanta roba è tanta tanta ma dopo ne parliamo si tratta del risultato migliore ottenuto da amadeus in questi ultimi tre sagnos se si guarda le prime serate della kermes diciamo che per il nostro ama è stata la migliore partenza di sempre inevitabilmente qualcuno si è messo a fare paragoni con le edizioni passate di sanremo andando anche abbastanza indietro nel tempo no c'è chi l'ha fatto e chi ha fatto anche un paragone con il sanremo condotto appunto da paolino bonolisino nel 2005 anche in quell'occasione fu un mega successo ma qualcosa nel paragone fatto non deve essere piaciuto a miss sonia bruganelli la moglie di bonolis che ha voluto mettere i puntini sulle i e ha detto la sua su instagram mamma mia mi sta già venendo il nervoso e dopo vi spiego perché attraverso delle stories sui social sonia ha evidenziato alcuni passaggi dell'articolo che non l'hanno convinta in particolar modo la moglie di bonolis ha evidenziato il passaggio in cui il giornalista scrive che sì il sanremo di paolo alla prima fece il 54,7 per cento di share ma quelli erano altri tempi si parla del 2005 raga proprio per questo a detta del giornalista il risultato di amadeus di quest'anno appare ancora più straordinario ebbe ma lo sappiamo tutti a detta di sonia però non pare essere così lei deve sempre contestare se non contesta non è contenta la bruganelli ha infatti contestato l'affermazione del giornalista sul sanremo del marito paolo bonolis alla donna non è chiaro per quale motivo li considera altri tempi forse perché sono passati 16 anni forse anzi secondo super sonia a differenza di ciò che accade oggi le altre reti non cambiavano la programmazione e mandavano in onda di tutto anche adesso va però detto che dal 2005 ad oggi di cose ne sono cambiate anche parecchie no basti pensare che il gf il grande fratello tra 2004 e 2006 portava a casa una media di 6 8 milioni di telespettatori con uno share che superava il 30 per cento si parla del 2004 2005 2006 ora invece da considerarsi straordinario se si riesce ad ottenere il 22 per cento qualcosa evidentemente cambiato o no i numeri parlano da soli inoltre è sì vero che le principali emittenti modificano la loro programmazione durante la settimana sarremese ma anche vero che oggi ci sono un sacco di canali in più che danno un'ampia scelta al telespettatore molto più che negli anni passati sogna bruganelli amica mia io ti voglio bene ma mettiti l'animo in pace il saremo di bonolis è stato mega galattico assolutamente nessuno lo discute poi bonolis è anche un mito voglio dire non toccatemelo ma lo è anche quello di amadeus è inutile che vieni qui a sminuire il nostro amo e ama era proprio il caso di fare questa polemica e prima di chiudere ragazzi la notizia ve l'ho data ovviamente apro la sezione telecommenti apro ufficialmente quindi commentate come se non ci fossero umani fatemi sapere quello che volete e prima però non posso evitare di dire una cosa allora sono la bruganelli abbiamo capito e fa parte del suo personaggio lei deve far casino deve contestare deve creare polemica se non è contenta ma fa parte del suo personaggio a noi va bene anche così nel senso alla fine non fa del male a nessuno dice dice quello che pensa poi se qualcuno è d'accordo con lei va bene se qualcuno è d'accordo non va bene però adesso venire a criticare un giornalista perché dice che il 2005 erano altri tempi mentre la realtà non lo erano allora ti ricordo che nel 2005 c'era solo la tv si c'era internet non c'erano i social ovvero c'erano c'erano i social ma non c'erano i video sui social non c'erano le piattaforme non c'era netflix non c'era amazon prime non c'era disney plus non c'erano da zone non c'erano tutte quelle piattaforme televisive che ovviamente hanno portato via una bella fetta di pubblico alla televisione tradizionale e questo è il motivo per il quale se anche il gf nel 2005 faceva il 30 per cento di share adesso già il 22 per cento ragazzi tanta ma tanta tanta roba ed è anche il motivo per il quale molti programmi di tipo il programma che faceva la volpe su tv 8 se vi ricordate faceva lo 0,8 l'uno il 2 per cento ma mica è colpa della volpe mica è colpa del programma è colpa del fatto che c'è molta più scelta e ci sono soprattutto queste benedette piattaforme mentre invece nel 2005 se volete vedere la tv c'era la televisione le varie televisioni private che si è vero che ce ne sono tante ma cosa trasmettevano tele vendite tele vendite tele vendite compra la cremina e vieni di qui compra la collanina e poi soprattutto non c'era netflix e compagnia bella che ragazzi quanta gente adesso non guarda più la televisione e poi soprattutto visto il fatto che adesso con le nuove televisioni hanno già netflix installato la fibra praticamente ce l'hanno tutti quindi ragazzi allora sonia io capisco che tu vuoi bene tuo marito lo devi difendere da spada a tratta e ci sta perché è una dimostrazione d'amore e a me le dimostrazioni d'amore mi piacciono quindi è vero che paolo bononi si ha fatto più del 50 per cento nel 2005 tanta roba ma non venirmi a dire che adesso il 50 per cento fatto nel 2022 è la stessa cosa del 2005 e poi è ovvio che saremo aiuta voglio dire la rai aiuta e poi l'abbiamo visto tutti no trasmettono sulle altre reti praticamente un programma più scrauso dell'altro quindi è ovvio che vincono un po facile però ragazzi ci sta dura una settimana neanche meno di una settimana e mettiamoci l'animo in pace e sonia bruganelli mettiti l'animo in pace perché nessuno ha detto che paolo bonolis non è bravo paolo bonolis è scrauso non ha fatto il suo dovere non ha fatto gli ascolti ha fatto tutto quello doveva fare rapportato all'epoca che era il 2005 quindi a me sembra che questa polemica è un pochino sterile però che dirvi non me non me la prendo assolutamente con missy sonia perché fa parte del suo personaggio lo sapete no se lei non fa casini se non crea dinamiche polemiche non è contenta quindi quindi cara sonia e per di più voglio dirti anche che si molto felice che il gf che stai facendo adesso come opinionista sta facendo picchi anche del 22 23 mi sembra che adesso non mi ricordo non vorrei non vorrei dire numeri così aminca però dei dei bei ascolti rapportato al 2022 quindi ragazzi che dire io penso che a volte bisognerebbe pensare fino a 10 contare anche fino a 100 prima di fare polemica ovviamente ognuno libero di pensare quello che vuole a questo punto io vi ho detto il mio pensiero e voglio sapere il vostro pensiero che cosa ne pensate ha ragione la sonia bruganelli siete dalla parte sua siete dalla parte di amadeus o siete dalla parte del zio nato dicono che sei dalla parte di questo pelatone della zio nato fatemelo sapere con un bel commento mi raccomando commentate come se non ci fossero mani per il resto lo sapete dovete mettere un bel like sotto questo video se vi è piaciuto dovete mettere un bel like sotto questo video anche se non vi è piaciuto così giusto per la simpatia per il resto lo sapete registratevi al canale cliccate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video ciao bedazzi